Soul, il nuovo cartoon animato che potrete vedere dal 25 dicembre sul canale Disney Plus. Io sono Stefano Gollani, ho scritto la canzone finale di Soul, l'ho intitolata Villa Incognito. È un brano in sette ottavi inizialmente, in tempo piuttosto jazz. Avevo questa idea da un po' di tempo e finalmente grazie alla Disney ho scritto una parte centrale, in tre quarti invece, ve lo faccio ascoltare che facciamo prima. Grazie. Grazie. Di jazz, di musica parla il cartone animato Soul, la musica è la mia passione da sempre. Il personaggio di Soul entra in una bolla quando ha a che fare con la musica. Questa è una bolla che io conosco, non solo per via del cognome, la conosco, è una sensazione di vivere nel presente, di stare nel presente, la sensazione che altri trovano meditando. Quella per cui esiste solo la musica, esiste solo la prossima nota addirittura, ma non esiste quella precedente perché stiamo andando sempre in avanti. I funetti, i cartoni animati sono un'altra delle mie passioni da sempre, quindi io vi consiglio caldamente questo Soul perché parla di grandi temi, parla del motivo e dei motivi, delle motivazioni che ci spingono ad affrontare questo passaggio sulla terra che noi chiamiamo vita. Questo momento in cui la nostra anima si incarna, decide di scegliere un personaggio, si porta presso le proprie passioni e decide di sperimentare tutto quello che i cinque sensi di noi esseri umani possono regalarci. Non mi resta che augurarvi buona visione e buon divertimento con il cartonimato Soul in onda dal 25 dicembre sul canale Disney+. Ciao!